Dopo l'accentramento dello Stato Si definisce ancora Pahlavi L'altra parola è Patti Quindi Il libro Erosa Sanide è in realtà l'alleanza fra i peziani e i parti E la fine di questa alleanza porterà alla caduta del imperio davanti all'eserro 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 Troviamo un dato che ci aiuta a datare All'eserro E questo non è per dire che i romani adorano i barmanici del Kurdistan come adesso Anche perché ci sono state alcune guerre Ed una in particolare nel 200 all'inizio del 296 Quindi questa frase ci consente di dire che l'iscrizione è stata scritta nel 293 Quando da 6 E il 296 Quando scopre la guerra All'eserro 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 Quello che io spero di avere in qualche modo dimostrato in questa conferenza è che la storia sassanica è parte integrante della storia del Pultistano così come lo è quella parte. Il senso generale del progetto che conosciamo insieme ai nostri amici dei nostri occhi è quello di ridare la dignità culturale al punto di vista, ha un lungo periodo dal Sesto secolo avanti Cristo, al Sesto secolo avanti Cristo. Alla cosa c'è, però, in realtà la storia si può essere che si è un paese che si è un paese, ma non è un paese che si 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 è un paese. Quindi da Giacometi ai Sasani, che è stato uno dei periodi importanti della storia del Burkistan, che è stato trascurato per molti anni perché non faceva parte della storia nazionale dell'Iran così come la volle riconoscurire Saddam Hussein. Questo è il nostro diritto, che non lo so. Alla ammè, ha un'altra cosa che è stata, 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 che è stata. Adesso vi ho ammigliato abbastanza, e lei è già pronto a bastonarmi. A presto. Grazie a tutti. Vabbiamo a trovare alcune delle bevizie. Questo è un linguaggio che ci ha parlato, una lingua è diverso, o c'è una lingua è diverso, perché una lingua è diverso da un altro lingua, e la differenza tra due lingua è una lingua, è una lingua. La lingua è diverso, ma ora è diverso, ma ora è diverso, perché una lingua è diverso. Ma quello che da noi, l'assessazione e l'elemento sia molto riferente fra loro, è l'elemento in cui il sindaco. ...eva una lingua che si parlava del XVI secolo. Allora, devo smanare l'esterno, ma sarebbe stato un po' un po' l'unico l'esterno, smanare l'Iranica, smanare la Farsiia, ma tascista che ha rossi metti i giorni, che aveva un po' l'esercito? L'esercito del settimo secolo. Ah, l'esercito di Shashamaya. E' la prima che abbiamo del mio versiamo, della lingua che si parla oggi in Iraq, è del decimo secolo, la prima abbastanza ampia. Allora, l'esercito di Shashamaya, 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 l'esercito di Shashamaya. Per quanto riguarda, ad esempio, la lingua del nord occidentale, come il kurdo e il panico. All'epalamo osmananica, la scimali, harbi, sepe, nuocusmani, urdiusmani, panarini. noi abbiamo, una testimonianza scritta, del carri di Goppe, che è del sesto settimo secolo, ma probabilmente, che riflette lo stato più antico. l'esercito di Shashamaya, l'esercito di Shashamaya, l'esercito di Shashamaya. che è un'esercito di Shashamaya, che è un'esercito di Shashamaya. che è un'esercito di Shashamaya. che è un'esercito di Shashamaya. è una monitorazione jeweilasLevsa cheibilidad è pagata dalla domanda. C'è un'altra parte. Poi nel periodo sassanite parlava delle due lingue, però il kurdo non l'abbiamo sentito qui. E' più vicino al kurdo, se vogliamo specificare. Il kurdo non l'abbiamo sentito. 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 Non l'abbiamo sentito. Il kurdo 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 non l'abbiamo sentito. Niente rugi! O 쉬è un testimento. Però non si chiudice. Ha trovato le ruvazioni più seg momento. Ecco, quando il kurdo non ci si è la Dwontano. Va sal詫. A impatto il preso. che in realtà è vero che i fuori potrebbero ricordare una funzione difensiva. Ma la torre è piega, quindi non era un modo di casa, non c'è una vita di casa e al momento non sappiamo neanche se ci fosse un modo, una scala per accedere al vento. La comunitaria 69 è comprissibile, e se andati non sono disponibile nei miei confronti i riolerzi che sono un pafondti e le incontri Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.